La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon giovedì a tutti e ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa. Sfogliamo le pagine dei quotidiani, ne dicono questa mattina, giovedì 15 settembre, andiamo sulla prima pagina del mattino nazionale, ancora questione prezzo del gas, caro energia in primo piano, in particolare andiamo a Bruxelles, vediamo quali sono le mosse dell'Unione Europea proprio per l'emergenza energetica, prezzo del gas, Europa divisa. Questo è il titolo, caro energia via la manovra di Bruxelles, ma nuovo rinvio sul price cap sul metano, degli extra profitti, 140 miliardi di aiuti, von der Leyen sfida Putin con i colori ucraini. Questo è il titolo che racconta la giornata a Bruxelles di ieri. Andiamo avanti, la politica, Meloni, Salvini polemico più con me che con i rivali e poi Parla Letta, giovani, donne e diritti, la sfida dell'affidabilità. Ancora in alto, il COPASI, l'ombre russe sulle elezioni, non c'è l'Italia nel dossier, al momento l'Italia non è direttamente coinvolta. Getta acqua sul fuoco Adolfo Urso, il presidente del COPASI, senatore di Fratelli d'Italia da Washington, dove in missione prova ad arginare le polemiche scatenate dal report con cui l'intelligence USA ha accusato il Cremlino di aver speso 300 milioni di dollari per finanziare partiti esteri e influenzare le dinamiche democratiche di almeno 20 paesi. Andiamo di fondo l'analisi, il piano a metà che lascia aperte molte questioni e poi la riflessione, la scarsa qualità del lavoro penalizza il paese. Centro pagina, far west, quartieri, la notte di follia, dei baby pistoleri, in due aggredirono e rapinarono turisti francesi durante il raid, uomo al balcone ferito alla testa. Due 17 anni, baby pistoleri, sarebbero gli autori del raid, dei quartieri spagnoli di Napoli, due francesi nel mirino dei rapinatori che furono selvaggiamente picchiati e rapinati. E poi l'inchiesta, andiamo a Roma, il disabile giù dalla finestra, indagati quattro agenti. Nella fotonotizia il calcio con le gare di Champions di ieri sera, il Napoli è sceso in campo proprio ieri sera dopo il rinvio della gara che doveva invece tenersi martedì scorso, ma per il lutto in Scozia per la morte della regina Elisabetta sono stati posticipati, la gara è stata posticipata la serata di ieri, una serata importante, una serata con un importante risultato per il Napoli che vince fuori casa 3-0, vediamo come ne parla il mattino, Napoli da favola. Ecco il titolo Champions, prova sontuosa a Glasgow, 0-3, azzurri primi da soli, Super Napoli, 30 giorni da ricordare i primi di una stagione dalle bellissime prospettive, inizio bruciante in campionato in Europa, il 3-0 a Glasgow è un deciso passo verso la qualificazione agli ottavi. E poi in omaggio con il mattino, prime pagine storiche, domani lo scudetto bis. Andiamo in basso, Campania Libri, la star è Pamuk, a Palazzo Reale il premio Serao, la prima edizione della Kermess. In alto, sotto il titolo di testata, l'attrice Irene Papas, addio a Irene Papas, la Penelope più amata che stregò De Simone, aveva 96 anni. E poi via al polo audiovisivo sorgerà a Bagnoli, la Cinecittà del Sud, nell'area ex Nato. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, vediamo invece quali sono i principali titoli per il mattino di Salerno, la notizia della sentenza della Cassazione che conferma l'assoluzione sul caso Crescent per gli indagati. Vediamo, Crescent, il caso è chiuso, questo è il titolo per il mattino di Salerno, assolti De Luca e altri 22 anche dalla Cassazione, chiara assenza di vizi e difetti. Gli inammissibili ricorsi di procura Italia Nostra, l'edificio non potrà essere confiscato. La storia, politici, tecnici e imprenditori sotto accusa da dieci anni. A novembre del 2014 il Gup Sergio De Luca rinviò a giudizio per il Crescent l'allora sindaco Vincenzo De Luca, la sua giunta, imprenditori e tecnici. E poi ancora la politica e andiamo di spalla tra PD e Fratelli d'Italia, accuse e tensione alle stelle, querela a Iannone. E poi la svolta, battipaglia ok al Pucca, atteso da 50 anni. Andiamo in alto, Salernitana e festa del Santo Patrono, fuochi no a Iervolino, il comune contraattacca su Arecchi e Salernello, spettacolo pirotecnico, i fondi li abbiamo già, centro sportivo esclusa l'area gradita al Patron, Salernitana e Palazzo Guerra, ora è gelo. E poi la messa per gli sportivi, Bellandia e Granata, nessuno vince da solo. Ancora per la squadra, Ghiomber in bilico, si scalda Pirola, Mazzocchi il gol, una liberazione. Questo per quanto riguarda invece il calcio giocato. Andiamo in basso, il giallo, Marzia scomparsa a Ponte Cagnano, è stata uccisa da un anno, nessuna notizia della 29enne, PM indagano per omicidio. E nella foto in basso, la scuola stretta sui cellulari in aula e caos bus per i pendolari, i disagi per la scuola a Salerno. Lasciamo anche la prima pagina del mattino di Salerno, vediamo i titoli per il quotidiano, le cronache, in apertura l'intervista. Bisogna vedere se le nostre idee coincidono con quelle di Iervolino. Parla l'assessore Brigante, noi siamo pronti ma bisogna essere in due. Il Presidente è una persona simpatica anche quando lancia provocazioni. Centro sportivo, il Comune offre due aree, Ogliara o Forni Nord. Andiamo avanti, sempre in primo piano, il caso Crescent, Cassazione conferma, De Luca, politici e tecnici assolti. In alto per la politica parla Francesco Forte, vita, responsabilità gravi della politica nella sanità campana. E poi invece troviamo l'intervista avvaliante del PD, ci vogliono risposte concrete, non vuote promesse. Le altre notizie a centropagina, fuochi di San Matteo, sussulto di dignità del Comune, questo è il titolo, per le bande musicali in Campopiluso, chiamerò le altre fondazioni per coinvolgerle. Dopo l'appello a Iervolino da Palazzo di Città, fanno sapere di aver trovato i soldi. Villa dei Fiori, Vuolo, denunciato il distretto sanitario, non c'erano alternative. Poi Cirelli di Fratelli d'Italia, Consorzio di Bonifica, il Tar, i voti da ricontare. Per Cirelli, sentenza storica contro il deluchismo. Andiamo avanti, ci spostiamo di fondo, il comandante, il colonnello Trombetti, lascia il comando provinciale dell'arma dei carabinieri. Vediamo, la morte di Anna Borsa mi ha lasciato il segno. Queste le parole nell'intervista di saluto del colonnello Trombetti. E lasciamo anche questa pagina, lasciamo quindi le prime pagine. Torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire alcuni dei temi pubblicati nelle pagine di primo piano, partendo dalle mosse di Bruxelles per il caro energia, per contrastare il caro energia. Vediamo, Europa via al piano energia, ma sul metano resta divisa. Nuovo rinvio sul price cap al prezzo di tutto il gas che arriva nel continente. Le commissarie dell'Unione Europea e von der Leyen, con i colori dell'Ucraina, sfidano Putin. Intese bilaterali sulle quotazioni con i singoli paesi fornitori per provare a superare le resistenze. E andiamo avanti. Il focus, l'esempio virtuoso della ceramica italiana, le aziende ceramiche dell'Italia centrale come modello di coraggio e buona volontà per far fronte alla crisi energetica. Lo ha detto ieri la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione. Con queste parole, i prezzi del gas sono aumentati di oltre dieci volte rispetto a prima della pandemia. Far quadrare i conti sta diventando una fonte di ansia per milioni di imprese e famiglie, ma anche gli europei stanno affrontando la situazione con coraggio. Gli operai delle fabbriche della ceramica dell'Italia centrale hanno deciso di spostare i loro turni di lavoro al mattino presto per beneficiare dei prezzi più bassi dell'energia. Nel distretto di Civita Castellano operai in fabbrica alle 5 del mattino per risparmiare sui costi. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo ora a Londra dove è arrivato il feretro della regina Elisabetta. Nella giornata di ieri il feretro è stato spostato da Buckingham Palace, la sua residenza, a Westminster Hall dove i sudditi potranno renderle omaggio. Vediamo Londra tra silenzio e lacrime e un addio lungo 5 giorni. La sovrana lascia Buckingham Palace per l'ultima volta la lunga marcia funebre. La city invasa da una folla commossa ai royals, il protocollo vieta di piangere. La regina Elisabetta ha lasciato ieri per l'ultima volta Buckingham Palace, il palazzo dal quale ha regnato per 70 anni. Da ieri il suo corpo è nella camera ardente a Westminster Hall, la sala più antica del Parlamento britannico ornata da splendide volte gotiche di legno. A lati della bara quattro guardie reali che tengono in segno di lutto, il capochino e la spada rovesciata con la punta rivolta a terra. Da ieri migliaia di sudditi rendono omaggio alla sovrana più amata. La coda già si snoda per 5 chilometri lungo il Tamigi, ma arriverà a 10 chilometri e occorreranno 35 ore di attesa per passare per pochi secondi davanti al catafalco. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, parliamo ora di infrastrutture. Restiamo sempre sulle pagine di primo piano del mattino nazionale. Bandi PNRR, di parte la diga di Genova da 1,3 miliardi scelti i nuovi commissari. L'autorità portuale Ligure ha conferito ieri gli incarichi tempi stretti per la gara. Presidenza l'ammiraglio Napoli, membri due professori universitari. L'obiettivo dell'esecutivo è recuperare il tempo perduto, il dossier va chiuso entro un mese. Sul tavolo del collegio è il nodo degli extra costi per il forte aumento delle materie prime. Andiamo in basso, troviamo l'intervista a Fulvio Scannapieco, ha la resta a Napoli e cresce in Spagna. L'aerospazio è l'eccellenza del Sud. L'imprenditore partenopeo ha acquisito la SCP per 43 milioni perché si integra con il nostro business. Il nostro settore risente in maniera marginale della crisi ed è fondamentale per integrare innovazione e sviluppo. Chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti, troviamo ora la notizia anche in primo piano sulle pagine nazionali della soluzione confermata dalla Corte di Cassazione sul caso Crescent, assolti gli indagati. Vediamo Crescent confermata la soluzione di De Luca, questo l'ultimo verdetto, i ricorsi giudicati inammissibili o chiede la Cassazione alla sentenza in appello, i legali del governatore, vicenda chiusa dopo dieci anni, atti legittimi e corretti. Decade anche l'ipotesi di procedere al sequestro della struttura salernitana. E con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, sfogliamo le pagine dei quotidiani salernitani. Andiamo sul mattino di Salerno, in primo piano la sentenza della Cassazione Crescent, tutti assolti, c'è chiara assenza di vizi e difetti. Questo il titolo, i legali del governatore De Luca, la fine di una battaglia durata quasi dieci anni, impossibile ora per la procura di Salerno chiedere la confisca dell'intero edificio. Inammissibili i ricorsi presentati, il PG boccia Italia Nostra, richiesta priva di valide ragioni. Gli avvocati degli imputati presentano una difesa scritta, ma chiedono udienza in presenza. E andiamo a centro pagina, l'inchiesta, la Genesi nel 2014, il primo rinvio a giudizio per la mezzaluna di Bofill. In basso invece cambiamo argomento, la sicurezza, Trombetti, per sempre con me il dramma di Anna, cambio al comando, anche al reparto operativo provinciale, Sant'Agata va via, al suo posto arriva Filippo Aureli. Ieri la presentazione, l'omicidio di Anna Borsa che il colonnello dei carabinieri Gianluca Trombetti ricorda tra i momenti più drammatici dei tre anni trascorsi a capo del comando provinciale dell'arma di Salerno, sia per le modalità come uccidere una ragazza all'interno del posto di lavoro solo perché ti ha lasciato, dice, con un tono di voce che tradisce l'emozione sia per il fatto che questo terribile episodio dimostra come ci sia ancora tanto da fare in difesa delle donne e per arrivare ad una completa parità di genere. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sul mattino di Salerno, parliamo di scuole, andiamo a Salerno, le polemiche, stretta sui cellulari in aula e caos bus per i pendolari, l'uso improprio dello smartphone, i presidi dopo la DAD basta con l'iperconnessione, studenti costretti a ritardare l'ingresso e dirigenti pensano a posticipare l'orario. Il sindaco di Capaccio fa dietro front sul rinvio delle lezioni, nuova ordinanza, da venerdì si torna in classe. Primi giorni di lezione, primi grattacapi dai disagi per gli studenti pendolari che arrivano in ritardo a lezione a causa di bus stracolmi all'uso improprio dei cellulari in classe. Andiamo in basso, bullizzato dai compagni, devi stare lontano da noi, scritto a una media a Laurino, il ragazzino viene isolato e insultato in chat, la madre costretto a cambiare istituto. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, vediamo le notizie per la Piana del Sele, per il Cilento, per i Picentini e per il Vallo di Diano. In apertura andiamo nella Piana del Sele dove a Battipaglia è arrivato il Via Libera per il PUC, il piano urbanistico comunale, un piano che si attendeva da decenni. Vediamo, Via Libera al PUC atteso da mezzo secolo, è un risultato storico, il documento finalmente adottato ieri dalla giunta francese, più verde servizi, meno consumo di suoli, vocazione agricola. Dopo 50 anni la città ha un nuovo PUC, adottato ieri mattina dalla giunta francese sulla base del lavoro realizzato dai tecnici della Mate Engineering e dall'architetto Antonio Oliviero. Ancora Battipaglia, muore l'anziano travolto sul marciapiedi, non ce l'ha fatta Luigi Mainardi, 77enne battipagliese che è stato investito 13 giorni fa da un'automobile a Battipaglia. Il pensionato è deceduto ieri ieri sera all'ospedale Santa Maria della Speranza dove era ricoverato. A centro pagina Eboli, nuova Ises, sfrattata, debito di 700 mila euro per il fitto, ancora una tegola per la nuova Ises. Ieri i locali ex sede del Tribunale dei giudici di pace sono stati sgomberati dalle attrezzature della cooperativa alla presenza dell'ufficiale giudiziario su istanza della proprietà dell'immobile, 700 mila euro. Questo è l'importo che la cooperativa sociale nuova Ises deve alla società FM immobiliare SRL delle famiglie Fulgione e Merola. Della storia di questa cooperativa si conosce ogni particolare, soprattutto quelli che hanno riguardato la questione amministrativa. in basso Ponte Cagnano-Faiano, niente spazi, liceali studiano in DAD, Lanzara tra le polemiche risolviamo. È ancora Battipaglia assolto l'uomo accusato di violenza ad un asquillo. Per le notizie invece di spalla andiamo a Sapri. Lorenzo Pio, l'omaggio dei compagni di classe. Lorenzo Pio coronato continua a vivere tra i banchi dell'istituto turistico Leonardo da Vinci, dove avrebbe dovuto frequentare l'ultimo anno. Da quando i suoi compagni sono tornati a scuola, sul suo banco ci sono oggetti che lo ricordano. Una foto, un peluccio, uno zainetto. In memoria del 18enne scomparso nell'agosto scorso a seguito di un incidente stradale avvenuto a Policastro, sul muro del corridoio è stato affisso uno strincione sul quale è impressa la foto del ragazzino e la frase resterai per sempre al nostro fianco lollo. E poi ancora Agda Gropoli, Cilento Act, tante adessioni al manifesto per i giovani. Chiudiamo le pagine del mattino di Salerno, andiamo ora sul quotidiano Le Cronache. Vediamo, si parla tra le pagine di primo piano del caso fuochi d'artificio in occasione delle festività del santo patrono San Matteo delle scorse ore. Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino aveva annunciato di essere disposto a sostenere, a finanziare lo spettacolo di fuochi d'artificio e ora arriva dall'amministrazione comunale il ringraziamento, sottolineando però che i fondi ci sono. Vediamo, il comune ringrazia Iervolino e trova i soldi per pagare i fuochi. Questo è il titolo. Si aspetta il parere del prefetto ma non ci dovrebbero essere problemi visto che spettacoli pirotecnici sono stati già fatti. Antonio Piluso sentirò le altre fondazioni per vedere di sostenere i costi delle bande. E vediamo una parte dell'articolo un po' polemico di Le Crone che avranno forse rotto il salvadanaio o guardato sotto i cuscini del divano. Fatto sta che il comune di Salerno alla fine ha trovato i soldi per garantire alla città lo spettacolo pirotecnico nel giorno della festa del santo patrono. A darne notizia la stessa amministrazione comunale dopo che da giorni, anzi settimane, taceva ufficialmente sull'argomento ma ufficiosamente non negava la mancanza di fondi per garantire lo spettacolo. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale come detto dopo che prima sul nostro quotidiano, quindi prima sulle cronache, poi su tutta la stampa cittadina era stato chiesto l'intervento di imprenditori, enti e fondazioni per sostenere lo spettacolo. Tra i tanti chiamati in soccorso della festa il patrono della Salernitana Danilo Iervolino ed è forse stata la sua disponibilità a regalare lo spettacolo ai salernitani a costringere il comune a rivedere la sua posizione o meglio a frugare nelle casse e trovare i soldi necessari per i fuochi. Questa è una parte dell'articolo pubblicato oggi sulle cronache. Andiamo avanti sempre per la festività del santo patrono San Matteo a Salerno, salvati i fuochi, ora pensiamo alla musica, tre saranno le bande a seguito delle statue in una processione che fa tremare le vene ai protagonisti. e chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, parliamo ora anche sulle cronache del saluto del colonnello Gianluca Trombetti che lascia il comando provinciale dei carabinieri di Salerno per nuovi incarichi. Ieri il commiato con la stampa nel corso del quale ha parlato di questi anni trascorsi al servizio della provincia salernitana. Vediamo quali sono alcuni dei punti essenziali che sono emersi nel corso della saluto alla stampa. Vediamo attenzione ai riassetti che ci potrebbero essere nel mondo criminale cittadino. Il saluto del comandante provinciale Trombetti, Salerno, la porto nel cuore. Non dimenticherò mai l'omicidio di Anna Borsa, un evento che mi ha assegnato. Cambio di guardia al comando provinciale dei carabinieri di Salerno, il colonnello Gianluca Trombetti ha lasciato il suo posto per andare a ricoprire un altro prestigioso incarico e ieri mattina ha salutato i suoi uomini e la cittadinanza. Salerno è una città che non può rimanere nel cuore di chi ci passa, ha detto il comandante. Mi sono integrato molto nella comunità e sono soddisfatto del lavoro svolto. Non ho grossi rammarichi. È chiaro che ci sono progetti che sono stati avviati e non porterò a termine, ma questo fa parte della natura delle cose. Sicuramente ci penserà il mio successore. L'omicidio di Anna Borsa mi ha colpito molto dal punto di vista umano. Mi hanno colpito molto sia le modalità che anche la pervasità della violenza contro le donne. Poi racconta che tipo di città sta lasciando. Una città sicura dal punto di vista dell'allarme sociale. Possono esserci dei riassetti nel mondo criminale che vanno monitorati, ma il monitoraggio maggiore va fatto su tipologie di reati che sono più dissimulati e latenti. Su questo tipo di settore ci vuole maggiore attenzione. E poi ieri anche il saluto al tenente colonnello Luigi Aureli che è arrivato a Salerno al comando del nucleo operativo e radiomobile. Vediamo al lavoro per la difesa dei cittadini, nuovo comandante del reparto operativo. Conosco Salerno e provincia per fama. So che è molto grande, bella ed operosa. Mi sto rendendo conto che la provincia è molto vasta e diversificata. Ovviamente, come tutti sanno, abbraccia territori tra di loro molto diversi, disomogenei, grandi e questa la rende pertanto una realtà molto professionalizzante, molto sfidante per quello che riguarda il nostro lavoro. Queste le prime parole del tenente colonnello Aureli. E lasciamo questa pagina, restiamo sempre sul quotidiano Le Cronache, andiamo a vedere le notizie provenienti dalla provincia di Salerno. In particolare andiamo a Capaccio Pestum, parliamo della scuola perché, come abbiamo già visto, il sindaco Alfieri ritira l'ordinanza che aveva chiuso le scuole per il caldo eccessivo e per la presenza di turisti fino al 19 settembre. Quindi giorno di riapertura, 19 settembre, l'ordinanza viene revocata e quindi si torna in classe venerdì. Vediamo. Temperature in caro, Alfieri annulla l'ordinanza e riapre tutte le scuole. Il primo cittadino aveva insieme ad altri sindaci stabilito il ritorno in classe per il 19 settembre. Viste le previsioni del tempo per i prossimi giorni che annunciano un calo delle temperature, il sindaco di Capaccio Pestum fa marcia indietro e sospende l'ordinanza della scorsa settimana che stabiliva il ritorno in classe il prossimo 19 settembre. Per pubblicarne una nuova nella quale si stabilisce che si ritornerà in classe il venerdì 16 settembre. A Battipaglia investito sul marciapiede muore 77enne sequestrata la vettura, mentre a Castellabate piano nazionale di ripresa e resilienza, convegno PNRR, occasione di sviluppo organizzato da First CISL. In basso ancora l'appuntamento Sclerosi Multipla e Sport domenica 18 settembre tappa Pestum Nordic Tars, camminata gratuita all'aria aperta destinata a sensibilizzare le persone. E con questa pagina termina la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13.45 e alle ore 19.45. Grazie per averci seguito e auguro a tutti e una buona giornata.